Bentornati cari editori, come state? Spero tutto bene, io sono Rogatj, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E no, non mi son rimbambito, ma l'argomento di oggi è particolarmente importante in questo weekly del ritorno, il ritorno al weekly normale, dopo due settimane folli, due settimane folli dietro a Teramo, il Teramo Comics, e subito dopo all'ARF, due settimane che mi hanno dato anche il modo di riflettere su alcune cose, ma venite più vicino. Un weekly che non avrà la base sull'attualità, che non ho praticamente preparato, ma un weekly in cui volevo ragionare con voi di una cosa che secondo me è sottovalutata, sotto tanti punti di vista. Allora, sgombriamo il campo da tutto quanto il resto, innanzitutto grazie, grazie per il Teramo Comics, che è andato benissimo, una fiera, la mia prima fiera nella quale mi sono occupato di tutti i panel con gli editori, anche di panel all'improvviso mi sono occupato, ho conosciuto Carmene Di Giandomenico personalmente, c'è stata l'intervista con lui, con i Leviatani, con gli amici della Bax, su Calia, su Samuel, su appunto il nuovo Leviathan Vers, c'è stato un paio di appuntamenti sulla scrittura di Fantascienza e Fantasy, con editori locali, c'è stato l'intervista Ernesto Pugliese, che ancora devo pubblicare oltretutto, ci sono state veramente tantissime tantissime cose interessanti e è stato bello, è stato bello poterlo fare, poterlo portare a termine, erano mesi che ci lavoravamo con l'associazione Altri Mondi, con la stessa Bax e i Altri Mondi, è venuta veramente fuori una bella, bella manifestazione, incentrata sul fumetto, anche se all'Atre c'era anche tutto il resto, c'erano i cosplay, c'erano i videogiochi, ma nulla rubava, nulla rubava l'interesse principale, appunto era quello sul fumetto. Poi, fine settimata, state vedendo gli ultimi video, appunto anche lì dall'ARF, perché si sono un po' accavallati, ovviamente, ho partecipato a un talk all'ARF, i fumetti raccontati bene, ringrazio l'ARF per avermi invitato, non era scontato, non era affatto scontato, c'erano con me delle persone che parlano di fumetto da dieci anni, da quindici anni, c'erano persone che parlano di fumetto anche da meno, come Alusiel, però, insomma, per me è stato un buon, o un ottimo momento di interesse e di confronto con gli altri. In quel caso abbiamo parlato anche con Barbara Baraldi, l'intervista a Barbara Baraldi e il panel di Nando che è andato benissimo, sono tutti e due i video andati benissimo, sono contento di questo, sono contento di aver incontrato in queste due fiere tantissimi di voi, venuti anche apposta per incontrarmi, cose allucinante, addirittura all'ARF c'era un ragazzo che ci avrà avuto sedici anni, si è avvicinato, ciao Luca, io ti seguo, no, sono contentissimo, questo appassionato di Samuel Stern, sono contentissimo, si è fatto fare la foto insieme a me dal padre, il padre ci avrà avuto la mia età, quindi è proprio una cosa che dà un'immensa soddisfazione quando riesci ad arrivare anche a quelli che tutti dicono non sono il tuo pubblico e invece, invece ci riesce ad arrivare perché? Beh, perché quando gli interessi sono comuni l'età non conta o conta molto meno, ci siamo fatti delle risate con Davide e con Curo incredibili, siamo stati, credo, benissimo assieme in questo contesto, quindi sono contento, sono veramente contento di aver partecipato a queste due cose, ma, ma c'è un ma, ma c'è un ma, ma c'è un ma che arriva anche da una serie di commenti agli ultimi video, una serie di messaggi su Instagram e su gruppo Telegram a qualcuno, perché mi consigliate determinate cose, mi dite, no, ma a caso mai fai le live, no, ma se il video lo pubblico così tanto dopo, poi non è più nel contesto, non ti conviene, ti conviene pubblicarlo prima, mi parlate di un sacco di cose e mi suggerite, io sono contento di questo, però non è scontato, cioè, io non vorrei fare un discorso che non è completo, vorrei, facciamo un passo indietro, perché non c'era nessuno seduto all'inizio del video, perché non è scontato che questo canale, come tanti altri, esistano, non è scontato il lavoro che viene fatto per mero hobby, non è scontato che tutto quanto quello che questo canale, come tanti altri, propongono, mettendosi anche alla prova, mettendosi, aprendosi, appunto, al giudizio degli altri, esistano. Anche all'ARF, no, si è discusso, eh ma su YouTube come funziona, perché non riusciamo a dare un'informazione completa, da Iso Steve, eccetera, perché non è così, perché non siamo un network, perché tra i milioni di video, forse miliardi di video che ci sono all'interno di YouTube, tu vai a trovare quello che ti interessa in quel momento, quello che riesci a trovare di interessante in quel momento, ma non è detto che quel contenuto debba esistere. Perché? Beh, perché siamo di fronte a persone, anch'io, che mettono il loro tempo del budget per gestire un canale YouTube? Per quale motivo? Beh, un po', ovviamente si deve essere un po' egocentrici, quello è scontato, altrimenti i fumetti te li commenti in privato, non te li commenti davanti a una telecamera e ad una platea più o meno varia. Un po' perché? Per esigenza, come è nato il canale Storia dell'altra vita, quindi durante la pandemia, proprio all'inizio della pandemia, si cercava qualcosa da fare insieme ai bambini, fargli leggere, farli svagare e farli impegnare in qualcosa di effettivo, di giornaliero, eccetera, eccetera. Un po' perché è il mestiere tuo, nel mio caso, è il mestiere mio, quello di andare un po' più a fondo, di cercare di scavare un po' di più all'interno delle varie notizie? Beh, Storia dell'altra vita, ormai ha oltre due milioni di visualizzazioni, abbiamo visto l'altro giorno 5500 iscritti, una cosa del genere, su Instagram siamo in 23.000, siamo molti di più, ma per altri motivi, anche su TikTok stiamo oltre 1500, anche lì, non so perché, però ci siamo, ma sono spazi che potrebbero chiudere da un momento all'altro. Non si ha alcuna certezza che questo canale domani pubblichi un video, ma perché non lo deve fare? Ma perché non c'è nessun impegno professionale a farlo? Ieri, su Telegram, ho avuto da parlare una bella discussione, anche con Federico, che è il moderatore del gruppo, quindi che è la persona a me più vicina da questo punto di vista, no? Beh, perché c'è stata una nuova casa editrice che ha utilizzato il solito sistema che ormai usano tutti, dell'influencer marketing, secondo me Becero, di sfruttare, diciamo, la voglia di, dei piccolissimi, di poter partecipare a una sorta di giveaway, a ricevere dei volumi, un volume, cioè cinque volumi in tutto, non cinque per persona, cioè cinque tra tutti quanti, quelli che parteciperanno o che hanno partecipato, ma cose che succedono anche con altre case editrici, fanno i giveaway e si sparge un po' la voce in giro. Io non sono contro a questa forma di marketing estremo, forse un po' crudo, che va a inquinare il mercato sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista del lettore, perché io per esempio guardo il mondo del food, il mondo del food è pieno di gente che per un pacco di pasta dice che è tutto buono e tutto bello, ma non è così, non può essere tutto buono e tutto bello, come nel mondo del fumetto, ma questo tipo di influencer marketing porta a vere e proprie fake review, recensioni finte solo per ottenere il prodotto. Qui non ce ne sono mai state e nel momento in cui avrò bisogno di farne sarà un momento in cui chiederò il canale. perché il canale non è nato per questo, il canale è nato per altro, per l'esigenza di comunicare apertamente a degli amici e gli amici non si danno le fregature. E allora tornando lì, quel tipo di influencer marketing va a minare la possibilità di canali piccoli come il mio, di poter interessare alcune realtà. Perché? Beh perché le realtà grandi non gli interessa. Quelli hanno altri tipi di investimenti sul marketing, li abbiamo visto su Bonelli, voglio dire, non c'è un canale più verticale su Bonelli del mio. Non c'è canale che faccia più visualizzazioni su qualsiasi cosa fa Bonelli del mio, boh tranne Tex. Eppure l'unico canale, cioè non l'unico, eppure il canale che non è stato mai preso in considerazione perché non ho mai ricevuto nessuna richiesta da Bonelli sulle ultime uscite di Bonelli è il mio. Ora non che io voglia lavorare per forza per Bonelli, ma quantomeno vorrei essere preso in considerazione. E invece no, perché Bonelli è in realtà troppo più grande e ha un stile di marketing astrascico, un po' come la pesca astrascico, si butta lì, è di derivazione televisiva, tu mandi il messaggio a più gente possibile e raccatti qualcuno. Non condivido, però così fanno. Lato manga ancora peggio. Il canale non è neanche verticale sui manga, quindi figuriamoci a chi può interessare il mio canale. Addirittura molti editori neanche mi mandano, cioè Panini all'inizio mi manda roba, non mi manda più niente. Star Comics a tutti quanti mangano da pacchetti eccetera eccetera, a me manda le edizioni base quando le chiedo è uno. Quindi sinceramente non ci sta neanche lì da stare a chiedere, cioè non mi interessa. Le realtà medie risolvono con l'invio di materiale in tipo Saldapress. Saldapress, in visione, in lettura e me ne manda in quantità grossa. Per cui anche lì quello è il patto che facciamo insieme. Tu mi mandi le cose, io se mi interessa le recensisco, se non mi interessa non le recensisco, le faccio vedere nella buffata perché nella buffata faccio vedere tutti i fumetti che mi arrivano. Quando c'è da parlare bene di una cosa ne parlo bene, quando c'è da parlare in modo più critico o anche male di qualcosa ne parlo male. Fine. Non mi è mai stato detto nulla da sto punto di vista, però non c'è mai stato neanche lì un approccio con una sponsorizzazione. Ma non per comprarmi la villa alle Seychelles, semplicemente per rimetterci di bene sul canale. Quel tipo di marketing astrascico appunto che utilizza il micro influencing per, che è quello l'influencing dell'amico, quindi ha due elementi fortemente negativi. Perché poi le case editrici piccole come quella lì lo utilizzano perché non hanno budget in programma, perché il budget ce l'hanno, semplicemente non lo utilizzano per quelle cose lì. Non hanno budget in programma per la comunicazione, quindi un canale come il mio è automaticamente fuori da ogni tipo di collaborazione di questo tipo. E ormai me ne ho fatto una ragione. Prima mi facevo un po' arrabbiare, devo dire sinceramente, perché soprattutto sulle cose su cui sono molto verticale e quindi sulle cose su cui la mia opinione vale e posso dirlo tranquillamente perché voglio dire tantissimi ho iniziato a legge Samuel e Kyla perché ce l'ho portato io, tantissimi ho iniziato a legge Dragoniano e lo leggevano perché ce l'ho portato io. Tantissimi hanno iniziato a comprare Dylan o quel determinato numero l'hanno comprato perché ce l'ho portato io. Ma perché dietro c'è un progetto serio, c'è una credibilità. Mi so di tutte queste cose da solo ma alla fine sono i commenti che mi arrivano, quindi se scorrete sotto i video i commenti li vedete, i post su Instagram, non metciate, i commenti li vedete, quelli sono. C'è anche chi critica ovviamente, ma siete pochissimi, quindi va bene così. E quindi che succede? E quindi succede che per farmi creare questi contenuti, andare a Roma due giorni, stare all'ARF, oltretutto il giorno del compleanno, quindi avrei tranquillamente potuto dire mi faccio i fatti miei, coprire la notizia di Dylan Dong, offrire quel tipo di servizio, quel tipo di copertura, cosa che nemmeno la RAI ha fatto, beh non è scontata. Non è affatto scontata. E io ringrazio tutti quanti quelli che sotto i video mettono i mi piace, mettono i commenti, che li condividono con gli altri, cosa fondamentale nei social media. Li ringrazio perché fanno un'azione per me importante. Io sul canale ho attivato gli abbonamenti. Non c'ho un abbonato. Ma perché non lo dico mai? Ma perché non lo dico mai? Perché non spingo su quello? Perché non è quello il target. Non è quello il mio obiettivo. Non è il mio obiettivo avere più abbonati possibile. Il mio obiettivo è quello di riuscire a lavorare su questo canale senza rimetterci troppi soldi. In questo momento ce ne sto rimettendo. Anche perché pensate soltanto a tutti quanti i volumi che compro per provare e portarli qui. Cose che in realtà non avrei letto. Casomai mi piacciono e quindi sono contento. Ma è comunque un investimento. Il mio. Non tutto quello che leggo. Lo leggo perché mi stimola di prima acchietto. Ma anche per alcune cose perché ci sono delle novità. Ve le voglio portare con il mio stile. E anche lì sono spese. Poi dico vabbè ma i fumetti alcuni te li regalano. Alcuni. Non tutti. Alcuni. Alcuni te li regalano. Viva Dio. Se no da sto canale. Io già così. Questo canale costerà un 500 euro al mese. Soltanto tra fumetti. E non ci metto i video. Le cose che faccio. Le competenze che ci sono per farli eccetera. Questo per dire che quando avete un canale. Un canale che vi piace. Un canale importante. Anche se piccolino. Cercate di non far mancare mai il supporto. Qualsiasi esso sia. Dal like fino all'abbonamento fino a non lo so. Non lo fate mancare mai il supporto. Perché quel canale non è detto che debba esistere sempre. Ciao belli.